Ci troviamo di fronte alla scuola Carlo Febbo, la scuola elementare della frazione di San Nicola Tordino. Una scuola chiusa dal terremoto del 2009 per i gravi danni riportati in seguito al sisma. Oltre al danno adesso la beffa, i finanziamenti previsti pari a 551 mila euro pare andranno perduti. Questo secondo la nota dei consiglieri comunali Gian Guido Dalberto e Antonio Filipponi. Come abbiamo più volte denunciato in questi anni, l'inerzia, gli inaccettabili ritardi e le false promesse dell'amministrazione comunale rischiano ora di compromettere definitivamente l'agoniato intervento di riqualificazione dell'ex scuola Carlo Febbo di San Nicola Tordino, centro di aggregazione identitario per intere generazioni di san nicolesi. Oggi lasciato in assoluto penoso degrado. Come temavamo, interpellati finalmente dal Comune, gli uffici regionali con una nota dello scorso 21 settembre 2017 hanno infatti fatto sapere che a causa del mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori, entro fine 2013, come da precedente proroga concessa dalla Regione stessa, il finanziamento originariamente assegnato non risulta più disponibile, in quanto decaduto per l'inerzia dell'amministrazione, che ad oggi non ha neppure validato il progetto esecutivo. E visti i riferimenti temporali, è stata ovviamente non accolta la ridicola motivazione adotta dal Comune che imputava il ritardo alle problematiche connesse al recente sisma del 2016. Chi si assume la responsabilità politica e amministrativa per questa vergognosa vicenda? Chi si dimette? E come si intende riparare ora la perdita del finanziamento di 551.000 euro causato esclusivamente dall'inaccettabile immobilismo politico-amministrativo e dal gravissimo ritardo nella esecuzione procedura? Quale copertura finanziaria si intende fornire ora all'intervento? Sul punto l'amministrazione deve riferire immediatamente in Consiglio Comunale. L'ennesima figuraccia del centrodestra Terramano conferma la totale assenza di programmazione sulle opere pubbliche con la conseguente perdita di finanziamenti. Nello specifico, poi, è inaccettabile l'assoluta incuranza verso un edificio che, lo diciamo da sempre, potrebbe invece costituire una fondamentale occasione di sviluppo e rilancio per la comunità della frazione più popolosa del nostro territorio, a cui questa giunta dovrebbe ora solo chiedere umilmente scusa, considerata anche la vergognosa situazione in cui versano la struttura e l'area limitrofa. Lo stato di abbandono, infatti, ha raggiunto ormai un livello talmente insostenibile da far scattare anche un serio allarme igienico-sanitario.